Ultimo giorno di interventi sul fiume Ufita per il consorzio di Bonifica, l'ente è dovuto intervenire, d'intesa con la provincia di Avellino, per risistemare il costone del fiume venuto giù a causa dell'erosione dell'acqua e ripristinare così il normale deflusso. Nelle immagini infatti si può notare come solo una settimana fa al centro del fiume si era creato un isolotto che deviava l'acqua. Le condizioni del fiume purtroppo non erano buone nel senso che si era creato un isolotto al centro del fiume per cui l'acqua tendeva a scalfire la strada che sta poco giù da qui. In definitiva c'è stato un crollo di parte della strada e quindi per questo abbiamo chiesto alla provincia di autorizzarci nell'intervenire perché sia a destra abbiamo l'impianto, la vasca di accumulo, sempre per finire qui, e sia su quella strada abbiamo i nostri impianti interrati rigui. Diciamo che con l'aiuto della nostra nuova consigliera delegata dalla provincia, Marisa Graziani, siamo riusciti ad avere nei tempi brevissimi questa autorizzazione per cui siamo intervenuti. Tanti progetti stato avanzato per il consorzio, ma tanti anche gli obiettivi già raggiunti come il collaudo della diga Macchioni a Castelbaronia, diga che dopo otto anni è tornata ad essere piena. Il progetto per cui ora siamo in gara è di circa 4 milioni e 200 mila e in effetti noi collegheremo il Vallone San Nicola alla diga Macchioni. È un progetto importante perché, diciamo, forse è l'unico in Italia perché verrà fatto con una tocco, una sivelazione orizzontale controllata, un foro, una galleria di circa un chilometro e due per portare l'acqua alla diga Macchioni e per utilizzare quell'acqua sempre accaduta su tutta la nostra zona di rigua. Perché un precedente progetto ci ha collegato la diga al fondo Valle Ufida, quindi noi abbiamo realizzato tutto in funzione del risparmio energetico, quindi dell'azzeramento dell'uso di corrente, se non per qualche cosina, proprio per dare acqua sempre a costi accessibili per gli utenti rigui. L'inverno quest'anno ha portato abbondanti piogge che aiuteranno le oltre 500 aziende servite dal Consorzio di Bonifica dell'Ufida durante l'estate. Quest'anno, ci dice il Presidente, non avremo problemi. Tutti gli anni noi facciamo, durante il periodo inferiore, accumuliamo acqua nelle nostre vasche. Diciamo che quest'anno è stata particolare perché ricordavamo prima dal dicembre 2013-2014 la diga non si tempiva. Ma quest'anno siamo riusciti a riempirla e anche quest'anno abbiamo provveduto a collaudarla grazie ai tecnici del Consorzio. E voglio dire, quindi problemi di acqua penso che quest'anno non ne dovremmo avere. Però tutto dipende poi dalla richiesta di domande che vengono fatte, quindi maggiori utenti, maggior uso di acqua. Però tutto sommato ce l'abbiamo fatta negli anni precedenti dove c'era veramente una scarsità di acqua impressionante. Penso che quest'anno non dovrebbero esserci problemi.